Generoso fino alla fine ma tragicamente sfortunato, Davide Zavattin, 38 anni, di cinto cao maggiore, artigiano e vigile del fuoco ausiliario, è morto ieri pomeriggio mentre con un'altra volontaria stava cercando di raggiungere in auto, in tutta fretta, un amico in preda a una profonda depressione, tanto da aver annunciato di volersi togliere la vita. In via Venezia, cinto il dramma. Alla guida della macchina a una Volkswagen Passat c'era la ragazza, 25 anni, di Summaga di Porto Gruaro, che ha improvvisamente perso il controllo della vettura. L'auto è uscita di strada. Nella carambola la Passat è finita prima nel fossato destro, poi sbattendo contro un terrapieno è tornata in strada e si è infine ribaltata nel fossato sinistro. Il 38enne è morto sul posto, schiacciato nel violento impatto. La ragazza, attiva nella Croce Rossa, è stata trasportata in ospedale in serie condizioni. Nell'intento di soccorrere l'amico che voleva suicidarsi, quindi, è stato lui, Davide, a perdere la vita. E il destino ha voluto che fossero i colleghi vigili del fuoco con cui aveva lavorato tra Porto Gruaro e Bibione a intervenire sul luogo dell'incidente, dove sono arrivati poi i fratelli e la mamma della vittima, colta da malore. Sulla morte di Zavattin la procura veneziana aprirà un'inchiesta. A fornire alla magistratura le informazioni necessarie a stabilire l'eventuale responsabilità della guidatrice sarà la polizia locale. L'alta velocità, senza dubbio legata all'emergenza in corso e alla fretta, sarebbe la causa del sinistro. Dalle prime informazioni risulterebbe che l'auto procedesse a oltre 140 km orari.